E' stato presentato ieri presso l'aula consigliare del comune di Giffoni 6 Casali, CAM, progetto che rientra nell'ambito di benessere giovani, iniziativa regionale grazie alla quale il comune di Giffoni 6 Casali ha ricevuto un finanziamento di 80.000 euro. A raccontare nel dettaglio il progetto la consigliera delegata alle politiche giovanili del centro picentino, Rossella Palo. Questo progetto è di fondamentale importanza in quanto sappiamo benissimo noi giovani soprattutto che al giorno d'oggi la formazione è fondamentale in quanto permette innanzitutto di accrescere chiaramente la formazione e il baglio culturale di tutti noi e soprattutto è importante ai fini dei curriculum e quindi dell'esperienza che appunto si richiede soprattutto quando ci si affaccia al mondo del lavoro. Quindi come amministrazione siamo contentissimi e molto orgogliosi di aver ricevuto appunto questo finanziamento, di esserci aggiudicato con la nostra progettazione tale finanziamento appunto da parte della regione Campania perché ci permette di dare un'opportunità concreta di formazione ai nostri giovani.